Controlli dei carabinieri sciatori del comando provinciale di Torino sulle piste della Via Lattea aperte nel fine settimana per il primo assaggio della stagione invernale. Gli interventi complessivi tra incidenti tra sciatori e accompagnamenti a valle di persone in difficoltà sono stati 31. Per prevenire che gli escursionisti si imbattessero in situazioni di pericolo visto il marcato pericolo slavine i militari hanno anche battuto i sentieri più isolati. Numerosi anche gli interventi nei centri abitati di Cesana Torinese, Clavier, Sestrier dove molte persone hanno richiesto l'ausilio dell'arma perché rimasti bloccati nella neve o perché coinvolti in piccoli incidenti stradali. Nella sola giornata di domenica sono state ben 22 le richieste di intervento al 112 per criticità connesse alla forte nevicata in quota e nei vari centri abitati di alta montagna.